ed eccoci nuovamente qui amici per il terzo evento di questa settimana della prima settimana di ottobre andiamo a fare live car parade allora andiamo a vedere siamo a mozza possiamo usare quale macchina vogliamo basta che sia da strada andiamo a vedere cosa possiamo scegliere allora genis no gallardo l'ho usata un po troppe volte veneno c'è almeno meno pipì la veneno della gallardo bugatti cosa usiamo cosa usiamo ragazzi cosa usiamo usiamo la veneno usiamo la veneno andiamo a vedere se abbiamo tutto a 700 no al massimo la corsa morbide e andiamo così dai andiamo a fare quanti sono cinque giri vai partecipiamo e via con la nostra lamborghini a monza ragazzi a monza non mi ricordo se si dai tiene bene tiene bene la frenata la fa bene speriamo di si qua è tutto accelerata e frenata accelerata e frenata vediamo speriamo di non fare brutta figura terzo posto superiore vediamo tramonto vai andiamo non abbiamo visto neanche gli avversari ma si wow che rombolo la nostra veneno di benomo la gt40 davanti mamma mia ragazzi questo è un'altra veneno davanti perché non vai veloci per me che è la buonata manetta sentite che che sfiammate che tira da dietro cos'era la Enzo adesso era la Enzo mamma mia mamma mia sono rimasto impressionante non può che non la guidavo siccome mi ha messo oh un po' lunghini eh ma ci sarà un'accelerata incontrollabile ragazzi passiamo stna un' vorgetti 40 c'era Bigati lì davanti mi pare eh si la Bigati ce la mangiamo Prima ancora che si apre il Lamborghini Borse Lago Frannata, questo è un altro Lamborghini Andiamoci all'esterno Ragazzi Mi hai fatto 70 all'ora Mamma mia Naturalmente ho tirato al massimo una staccata prima E quindi Sono impressionato ragazzi Vediamo quanto Abbiamo visto la velocità 307 qui No, non tiene la frenata Mi si gira in frenata Devo rallentare un po' prima Non posso frenare di botto Devo stare dritto, dritto, dritto Naturalmente da quando mi ho messo l'elaborazione a Supremo L'abbiamo ancora utilizzata Cosa abbiamo qua? Cos'è? Un altro Bugatti Cioè, gustiamocela un po' Spettacolo Scusate se non parlo Ragazzi Mi sto gustando La potenza esplosiva della macchina Mamma mia Non gli ho neanche settato La coppia La Il rapporto Del cambio Quindi potremmo fare ancora meglio Quindi potremmo fare ancora meglio Uh, mi sono dimenticato di frenata Sto guardando la velocità Non ce l'ho fatta Vediamo adesso in uscita Quanto arriva di fondo Dalla sesta A 390 all'ora Ragazzi A 290 all'ora 340 Ho visto 340 all'ora Praticamente la macchina di Formula 1 1.44 abbiamo fatto Adesso lo battiamo A 340 au La A 1290 all'ora Di A 1390 all'ora E' A 1390 all'ora E' andiamo a 2 secondi sotto finiamo se riusciamo a recuperare 1 e doppiarlo non ne so 2 secondi sotto 1 e 41 facciamola in pieno tutta sta un giro wow la curva 290 all'ora adesso preparato a frenare è finita wow che uscita troviamo ancora sotto i 300 millesimi e andiamo a farci la nostra consueta wow consueto testa coda nel finale e siamo andati a vincere praticamente in scioltezza adesso andiamo a vederci un po' di replay così ci ammiriamo la macchina vediamo quanto ci portiamo a casa 85.000 bene e anche il biglietto e anche la maratona e via con la schermata di replay ok 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 Cioè ragazzi avete visto che sfiammate che tira Meno male che ho 4x4 E poi c'è questa livrea A specchio dietro E davanti un Venomo spiaccicato In nero satinato Spettacolare 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 E la In freni Avete visto come diventano rossi in frenata Noi ci stiamo ovviamente ammirando la macchina Perché ormai la gara non dice più niente Guardate il rosso E la sfiamata dietro Tutto è in pieno qua Vediamoci mi sembra che l'ultimo giro questo qua Bellissimo Bellissimo da guidare Adesso ho fatto sull'erba qua Queste frenate stranissime Adesso è riuscito benissimo dalla parabolica Vabbè dopo si vedrà Andiamo verso la Scari Sentite gli uccellini Andiamo verso la Scari E già qua siamo nel parco di Monza Parco recintato più grosso dell'Europa No non ci fa vedere la staccata della Scari Eccolo qua Vediamo l'uscita Eh no allora c'è un altro giro E allora c'è un altro giro Mi ricordavo che io gli sono uscito benissimo Dall'ultimo giro Eh il pubblico acclama Eh si non vedo il tizio con la bandiera Ci facciamo l'ultimo giro allora Vediamo a quanto Ah Vero quel giro prima era 340 Siamo già 100 all'ora ragazzi 240 260 270 280 290 In curva 300 310 Eh ralentiamo Andiamo a cercare a quanto 80 all'ora ragazzi 90 Usciamo a 90 Siamo già 180 180 Non vedo 180 200 110 Vediamo alla Scari Quanto arriviamo 270 280 190 300 310 320 quasi 320 Vediamo E anche qua Guardate come si può bere qua Vediamo quanto usciamo A 170 Allora dalla Scari 300 E andiamo a vederci la fine Il nostro consueto testa qua da finale Vediamo se ce lo fa vedere Vediamo se ce lo fa vedere Adesso ce lo taglia Eccoci qua Un po' per il pubblico Sentite il pubblico come acclama Non ho capito perché la fine reale è questa qua Non ce la fanno fare qua E vabbè Alla prossimo Al prossimo Evento Ragazzi Ciao a tutti